Steatosi epatica, ossia fegato grasso. Abbiamo con noi il dottor Fabrizio Magnolfi, gastroenterologo. Dottore, prima di tutto in che cosa consiste questa patologia appunto del fegato grasso e quali sono le cause? Certamente. Si parla di fegato grasso quando si rilevano delle goccioline di grasso, di solito trigliceridi, all'interno delle cellule del fegato. E qui la vediamo, no? Anche fegato normale e fegato grasso. Certo, sono proprio delle goccioline di trigliceridi che quando interessano più del 5% della popolazione cellulare del fegato caratterizzano appunto la presenza del fegato grasso. Il fegato grasso può dipendere da un abuso alcolico, ma più spesso si correla con la sindrome metabolica e riguarda soggetti che fanno un uso limitato e non significativo di alcol. Questa seconda modalità di presentazione del fegato grasso è estremamente frequente, riguarda il 40-50% della popolazione ed è quella di gran lunga più rilevante e importante dal punto di vista medico. Da che dipende il fegato grasso in questa popolazione di non bevitori o comunque di bevitori moderati? Dipende dal fatto che si correla alla sindrome metabolica, che comprende l'obesità, in particolare l'obesità viscerale, quella che si accumula a livello dell'addome. Per cui questo tipo di obesità si misura più che con la bilancia con il metro da sarta e il girovita deve essere inferiore a 102 cm nel uomo e a 88 cm nella donna. Ma non solo l'obesità, ma comunque il sovrappeso, anche la dislipidemia, cioè quando c'è un accumulo, un'elevazione di trigliceridi nel sangue mentre si abbassa il colesterolo buono, quello HDL. Il diabete, il diabete di tipo 2, l'ipertensione, sono tutte condizioni che si raggruppano in un'unica terminologia che è quella della sindrome metabolica che ha come unico comune denominatore l'insulinoresistenza. E quello insomma. Quindi la diagnosi si fa in questo modo allora? Nel senso capendo, voglio dire... Dunque bisogna, qui bisogna, c'è intanto un mito da sfatare che è quello che il fegato grasso comporti dei sintomi i più vari tipo difficoltà digestiva, pancia gonfia, dolore a livello della regione del fegato, stitichezza. Ecco, non è assolutamente vero. Il fegato grasso di per sé, quando si tratta solo di fegato grasso, è del tutto asintomatico. E si rileva soltanto, talvolta e non sempre, con alcuni esami di laboratorio alterati, tipo una lieve alterazione, un lieve rialzo delle transaminasi, un lieve rialzo della gamma GT, ma non sempre neanche questi due elementi sono presenti. La modalità per fare diagnosi di fegato grasso, attraverso cui si fa ormai abitualmente diagnosi di fegato grasso, ormai è l'ecografia, che lo rileva facilmente. Ecografia che viene eseguita per i motivi più... Quindi con una ecografia si può capire. Per i motivi più disparati, no? Per i dolori, coliche, problematiche di tutti i tipi, o anche perché si va a cercare la causa di un lieve rialzo delle transaminasi e della gamma GT. La diagnosi grafica è facile, anche se nella vita niente è facile, ma... No, bisogna saperla fare, mi spesi dottore, ora io... Insomma, è relativamente facile perché si osserva un fegato cosiddetto brillante, cioè più bianco, ecco, in termini molto semplicistici, più bianco del solito rispetto al rene sottostante. Quindi è una diagnosi che è relativamente semplice, diciamo così. Allora, fatta la diagnosi del fegato grasso, ci si deve preoccupare, no? Perché, voglio dire, il fegato è un organo, è l'organo, se possiamo dire, molto importante nel nostro organismo. No, assolutamente no. La diagnosi di steatosi non comporta patemi d'animo particolari quando si tratta di una steatosi semplice, perché è una condizione del tutto reversibile. La dobbiamo considerare come un campanello d'allarme. Perché? Perché da una parte la steatosi può, in alcuni casi, non si sa bene in quali casi e perché. Questo secondo, diciamo, colpo, perché così si parla in termini medici, non si è mai capito, perché delle persone mantengono la steatosi tutta la vita e altre, poche per fortuna, vanno avanti con un po' di infiammazione, cioè in cui la steatosi provoca anche infiammazione del fegato e fibrosi e in rarissimi casi, non voglio imparare nessuno, in rarissimi casi si arriva alla cirrosi. Che è più, nel senso, i grandi bevitori. No, no, ma proprio a prescindere, qui si parla di steatosi non alcoliche. Sì, appunto, però si trasforma in una malattia che invece... Che tipica dei bevitori. L'altro, quindi, è un warning, è un fare attenzione, cioè una volta che uno ha diagnosi di steatosi il messaggio che deve arrivare è stai attento, puoi tornare indietro, ma se continui con certe... Con uno stile di vita, mi viene da pensare. Con uno stile di vita particolare, puoi andare anche a conseguenze non belle. L'altro aspetto che deve essere preso in considerazione, una volta che uno ha ricevuto la diagnosi di steatosi epatica, è il fatto che questa, come dicevo prima, correla con la sindrome metabolica, cioè con tutti i fattori di rischio anche per malattie cardiovascolari, perché sono gli stessi. Ho detto prima l'obesità, ho detto prima il rialzo dei trigliceridi e la riduzione invece del colesterolo HDL, il diabete, l'ipertensione, quindi sono tutte condizioni che correlano anche col danno cardiovascolare. Per cui, di fronte a un paziente con una steatosi epatica, bisogna indagare anche lo stato di salute delle arterie, perché potremmo trovare delle carotidi o delle coronarie alterate, indurite o addirittura con delle placche terosclerotiche. La cura, dottore? Ecco, per la cura è fondamentale il calo del peso corporeo, la riduzione del peso corporeo, che si può ottenere soltanto in due modi, con una dieta ipocalorica, ma anche con pochi grassi, quindi ipolipidica e soprattutto con pochi carboidrati, specialmente quelli rapidamente assorbibili, evitando le bevande dolci, evitando tutto quello che può modificare l'assetto lipidico, e poi con l'attività fisica che deve essere spalmata nei cinque giorni della settimana. Camminare. La guerra che dobbiamo intraprendere è contro la sedentarietà. Che in questo periodo di Covid poi è stata forzata anche. Bisognerebbe lanciare un ultimo messaggio di evitare le scorciatoie, cioè mantenere lo stile di vita e magari rivolgersi all'uso di farmaci, cosiddetti ai patoprotettori, non è un buon comportamento, è una buona pensata, perché contrariamente a quello che si pensa, a fronte di tanta offerta di epatoprotettori, ma in realtà di farmaci che realmente, scientificamente, sono provati ad essere efficaci contro la strettosi epatica, non ce n'è praticamente nessuno. Quindi, visto che il nostro tempo è scaduto, lei consiglia alimentazione sana, attività fisica, basta. Quindi voglio dire, detto... Stile di vita, cambiare lo stile di vita, che è cosa più facile a dirsi che a farsi, però è su quello che dovremmo impegnarci tutti, compresi i presenti. Mi fa piacere, mi fa piacere che venga detto dalla sua voce, perché lo stile di vita, movimento e cibo fanno veramente la differenza per la nostra salute. Allora, ve lo ripresento, ringrazio il dottor Fabrizio Magnolfi, grassoenterologo, e abbiamo parlato dell'asteosi epatica, ossia del fegato grasso. Grazie.